Sarà più semplice per i cittadini pratesi prenotare un esame del sangue. Da oggi infatti non è più necessario recarsi agli sportelli o chiamare il CUP. Con il sistema Zero Code il cittadino può prenotare in modo autonomo usando il proprio PC o smartphone. Zero Code è il sistema online della regione toscana e consente con quattro semplici passaggi di prenotare in autonomia il prelievo ematico indicando il giorno e l'orario più adatti alle proprie esigenze ed accedere così al punto prelievi scelto. La prenotazione può essere effettuata solo con ricetta dematerializzata. Basta aprire il sito, inserire il codice fiscale e il numero di ricette elettronica. Con più ricette l'operazione va ripetuta utilizzando il tasto aggiungi. Al termine dell'operazione basta stampare il promemoria dell'appuntamento che sarà comunque inviato con un sms al numero di cellulare indicato. L'attivazione di Zero Code è già stata sperimentata in diversi presidi dell'area fiorentina, della zona distretto di Pistoia e della zona distretto Valdinievole. Adesso parte anche a Prato con i prelievi fissati dal primo aprile in poi. In alternativa a Zero Code sarà garantita al cittadino la prenotazione attraverso gli sportelli CUP territoriali, le parafarmacie, le associazioni di volontariato che hanno effettuato questo servizio e attraverso il call center aziendale.